Uno dei gruppi hacker più noti al mondo, Ragner Locker, è stato colpito da un'operazione di polizia internazionale condotta per l'Italia dalla Polizia Postale, denominata Operazione Talpa. Sotto la direzione della Procura di Milano, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia ha condotto una serie di lunghe e complesse indagini che hanno consentito l'individuazione e il fermo in Francia di un informatico 35enne, considerato figura di spicco all'interno della gang criminale per il suo ruolo di sviluppatore dei software utilizzati per la cifratura dei dati delle aziende attaccate. Ragner Locker è una delle maggiori gang specializzate in attacchi informatici di tipo ransomware, attacchi distruttivi in grado di cifrare, quindi paralizzare i sistemi colpiti, pregiudicando così l'erogazione di servizi pubblici essenziali in vari settori, quali sanità, energia, trasporti e comunicazioni. L'ospedale israeliano di Tel Aviv e la principale compagnia aerea portoghese sono solo due tra le recenti e più importanti vittime del gruppo, che in Italia ha colpito dal 2020 l'azienda ospedaliera di Alessandria, la Campari S.p.a. e la Dolmar S.p.a., importante distributore di prodotti chimico-industriali. Sono stati richiesti riscatti da 5 a 70 milioni di dollari per ottenere la restituzione dei dati, ma a fronte del pagamento la restituzione non aveva luogo. Seguiva piuttosto l'ulteriore ricatto della pubblicazione sul dark web dei dati sfiltrati. Il gruppo criminale dissuadeva anche le vittime dal rivolgersi alla polizia, minacciando in caso contrario di pubblicare i dati sulla propria pagina nel dark web, chiamata Il Muro della Vergogna, ora sotto sequestro. Le indagini della Polizia Postale, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, si sono unite alle indagini della gendarmeria francese, dell'FBI americano e di altri sette paesi, e sono confluite in una settimana di azione operativa congiunta, supportata da Eurojust ed Europol e condotta in quattro diversi paesi, che ha portato al fermo del 35enne presso l'aeroporto di Parigi, nonché al sequestro dei computer su cui poggiava l'infrastruttura criminale in vari paesi europei, tra cui Germania, Lettonia, Svezia e Olanda. L'attività info-investigativa, condotta dagli investigatori milanesi, anche mediante intercettazioni telematiche transnazionali dei server in mano al gruppo criminale, è partita dall'analisi forense dei sistemi informatici attaccati da Ragner Locker nell'ottobre del 2020, ed ha permesso di identificare, ricostruire e localizzare l'intera infrastruttura criminale, protetta da un complesso sistema di anonimizzazione multilivello, che sfruttava server dislocati in tutto il mondo.